calignaia 4 luglio 2019 splendida giornata di mare fantastico panorama acqua calda tanta gente un consiglio dalla mattina fino alle tocche e mezzo circa ora solare ci sono gli ultravioletti dal tocco e mezzo fino alle 17 ci sono gli infrarossi dopo le 17 ritornano gli ultravioletti quindi se dovete andare al mare a prendere il sole per abbronzarvi andateci di mattina e andate via prima dell'arrivo degli infrarossi quindi se gli infrarossi arrivano intorno al tocco e mezzo 13 30 ora solare causa dell'ora legale equivalente alle due e mezzo quindi se andate via dal mare prima delle due in quarta le due riscantonate il grosso degli infrarossi ciao